La cosa più importante che certamente vale la pena sottolineare oggi è la persona qui accanto a me. Dopo molti anni accogliamo molto felicemente il ritorno di Quirino Principe, che manca da una decina d'anni. Stavamo facendo il ricordo poco fa, docente per tutta la vita in conservatorio di Milano, in varie università, scrittore, saggista, in particolare sul teatro tedesco, sulla musica tedesca. Ha scritto libri fondamentali su Mahler, su Wagner, su Strauss, autore lui stesso di testi per il teatro e anche dedito a attività di spettacolo come attore, come voce recitante. Ha accettato di venirci a parlare di Tosca, con un titolo che apre una provocazione e che sarà lui a risolvere, se così si può dire, usando un termine musicale. Quindi non tolgo altro spazio, il professor Principe la ringrazio ancora. Grazie. Prego. Grazie. Buongiorno, sono io che devo ringraziare tutti e ora, dopo aver ringraziato i responsabili del teatro che mi hanno invitato, il dottor Gaston Furnier-Fassio in particolare e il dottor Solinas, ringrazio il pubblico che ricordo, anche se in questo momento sono oscurato. Ecco, però, immagino di riconoscere tutti quelli che non hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in passato. Allora, dirò subito, esprimo subito un'intenzione. Io sono come sono, ciascuno è come è, ciascuno ha la sua indole, occupandomi di questi argomenti, che poi sono proprio gli argomenti del mio lavoro principale, cioè quello dell'insegnamento, in quanto io insegno oggi da otto anni e da tre anni soltanto, perché ho lasciato l'insegnamento a Roma 3, l'università di Roma 3, perché c'è troppo da fare in tutto il resto. Mi insegno in un'accademia che si trova a Verona, l'Accademia per l'Opera Italiana, che ha come fine la formazione di dirigenti di teatri d'opera, di direttori artistici, eventualmente di sovrintendenti, oppure di registi, di scenografi. Gli allievi sono diplomati in regia, in scenografia o in composizione. Sono queste tre radici, queste tre fonti, questi cespiti, si può dire, di frequenza. Ed è molto bello creare un canale e un sentiero comune sul quale confluiscono i diversi interessi. Si parla molto di opere, anche se non soltanto, ma si prepara all'ascolto, alla conoscenza, alla comprensione, da un punto di vista professionale. Se sei un compositore, che musica comporresti per un testo teatrale o magari scritto da te stesso come librettista? Queste prove si fanno e danno bellissimi risultati in questa Accademia. Se sei un regista, se sei uno scenografo, come agiresti di fronte a quest'opera, quest'opera in sé e per sé? E poi non è mai in sé e per sé, ma è sempre qualcosa di qualcuno, come viene interpretata. E allora in questo caso io applico una specie di dottrina, ecco, dottrina principe, ma è ridicolo dirlo, che si chiama anche Ascensore e che consiste nel partire dall'opera in quanto tale, costituita da libretto e musica, e scendere nei piani sottostanti, indagare cioè, nei limiti del possibile, quale sia la fonte, c'è sempre una fonte letteraria, storica, o sotto la fonte un avvenimento storico, oppure di cronaca. Per esempio nella Traviata, sotto la fonte che è la commedia di tragedia, tragica commedia di Alessandro Di Maffiglio, c'è la vera vita di Alfonsi Duplessis, una persona in carne ed ossa, vissuta veramente e morta di tubercolosi, nonché amante di Liszt, ma questo non è detto nell'opera di Verdi. E qui lì è un fatto di cronaca, sostanzialmente, pochi anni prima dell'opera di Verdi, ci fu la morte di Alfonsi, oppure un fatto storico, come in Simon Boccanegra. E nel caso di Tosca, è abbastanza singolare che Tosca sia, se le esaminate tutte le sue poche opere dall'inizio alla fine, sia l'unico dramma musicale di Puccini che abbia una trama storica. E se alcuni personaggi o tutti i personaggi non sono propriamente storici, ci sono dei modelli storici, i cui frammenti composti, come nel laboratorio del dottor Frankenstein, hanno creato un individuo fittizio, ma verosimile e per noi tanto più vero, perché lo vediamo sulla scena come simbolo, tanto più vero della realtà, o della cosiddetta realtà. Perciò abbiate pazienza, io questo vi posso dare. Cioè vi posso dare un discorso che in qualche modo circoscriva Tosca e fornisca a voi non quello che conoscete molto meglio di me, certamente, ma che forse vi può essere sfuggito soprattutto ai più giovani e che io vorrei regalarvi, se me lo permettete. E ho dato un titolo a quest'opera che è la traduzione italiana di una frase tedesca, se la devo leggere, in poche parole Instrumentiert doch che è stato tradotto da Laura Dallapiccola oggi qualsiasi scalzacane è capace di orchestrare in modo eccellente e un giudizio che Gustav Mahler, udite udite, infilò in una lettera che gli scrisse dal Hotel George di una città che i tedeschi chiamavano Lemberg e i russi Lwów e noi chiamiamo Leopoli nella Galizia, allora imperiale, austriaca e poi diventata naturalmente una città polacca mentre doveva dirigere un concerto in città con poca simpatia per quell'ambiente aveva un po' i nervi e racconta in questa lettera alla moglie Alma, famosissima moglie di essere stato a teatro e di avere ascoltato la prima esecuzione in quel teatro di un'opera nuova di Puccini la lettera è di mercoledì 1 aprile 1903 Tosca era vecchia di tre anni Leopoli era la prima volta e il suo giudizio è se sapessi che opera che opera l'orchestra non era male ma l'opera, l'opera guarda c'è una che con un coltello da cucina accoltella un uomo e lo lascia steso per terra e non ha neanche un gesto di pietà cristiana anzi se ne vanta poi alla fine c'è uno che viene fucilato per finta ma poi invece lo fucilano sul serio a questo punto mi sono alzato e me ne sono andato qualche tempo dopo sempre nel no 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 era il gennaio 1904 lui scrisse una lettera un'altra lettera ad Alma parlando d'altro e a un certo punto dicendo ma cosa vuoi che mi metta a scrivere musica come ha fatto Puccini nella sua fedora ovviamente nessuno ha mai corretto in questa attribuzione inesatta e dice una musica e qui c'è una parola misteriosa da Maronilan che nessuno ha ancora tradotto questa lettera ancora in editare in italiano ma vorrebbe dire appunto da italiani insomma dove non so per quale motivo è nata questa parola anche se io ho qualche intuizione sulla sua possibile etimologia ecco quindi una ostilità fondamentale nei confronti di Puccini condivisa del resto anche da Debussy in uno al suo scritto critico che trovate in Monsieur Croche in cui lui parlando di Piccini e della polemica contro Gluck Gluckisti e Piccinnisti dice poi tra l'altro Piccini non è vero che sia morto è rimasto in vita è stato congelato vive ancora ha cambiato poi il nome si chiama Puccini eccetera quindi proprio non gli risparmiava nulla e io pur avendo concepito fin dall'infanzia un grande amore per Gustav Mahler penso che il suo giudizio sia fortemente iniquo ecco e questo discorso deve in qualche modo giustificare il perché sia iniquo parto da una constatazione curiosa è curioso che la prima città del Granducato di Toscana che abbia accolto un'opera di Giuseppe Verdi sia stata proprio Lucca la patria di Puccini nel settembre 1843 l'opera era i Lombardi alla prima crociata converrebbe a questo proposito per leggere un po' i prodromi le premesse leggervi un bel libro io sono qui anche quando parlo in pubblico mi sento un po' in veste di bibliografo di dare consigli di lettura eccetera il libro di Marcello De Angelis che si intitola La musica del Granduca è un libro del 78 edito da Vallecchi però forse si può ancora insacciare in qualche biblioteca è un libro che vale la pena leggere anche perché gli italiani sanno poco della vita musicale in Toscana prima dell'unità chi era Teodulo Mabellini per esempio era un compositore notevolissimo e poi c'erano gli editori come Guidi ma lasciamo stare Lucca era una città importante musicalmente tre nomi per esempio prima di Puccini Francesco Geminiani Luigi Boccherini e poi naturalmente tutta la dinastia dei Puccini che sappiamo essere qualcosa di cospicuo quasi quasi come la dinastia Bach per continuità tra nonno il figlio il nipote il pronipote il fratello del nipote e così via importante per quanto riguarda Giacomo soprattutto il nonno non tanto il padre Michele ma il nonno Domenico che è un uggisista che godeva di alta stima insomma non soltanto nel Gran Ducato siamo arrivati quindi obbligatoriamente ai dati anagrafici del nostro qualunque cosa si stia dicendo di Puccini si deve sempre ricordare quando nasce e quando muore quando e come e dove e questo vale per qualunque persona noi stiamo parlando è un dovere nasce a Lucca come sappiamo mercoledì 22 dicembre 1858 e muore ahimè a Bruxelles ancora in età non senile sabato 29 novembre 1924 lasciando in compiuta Turandot per quanto riguarda Tosca anche l'opera esige dei dati anagrafici ricordiamolo sempre Tosca e si presentò quindi con una parola strana che non le compete melodramma in tre atti ebbene Tosca non è un melodramma è un dramma musicale è un musikdrama se non proprio alla tedesca come Wagner certamente alla francese un po' come Saint-Saën o come Masné ma direi con qualche marcia in più rispetto alla maggioranza poi delle opere teatrali dei due compositori che ho citato comunque un'opera in tre atti che fu che si avvalse di un libretto di due uomini che hanno contato moltissimo nella vita di Puccini cioè Luigi Illica e Giuseppe Giacosa tra poco parlerò dei librettisti di Puccini per capire quale sia la particolarità la specificità di questi due uomini le locandine che furono stampate a quel tempo le copertine di libretti d'opera con il libretto di Tosca fanno parte un po' della storia delle arti minori della storia della grafica del decor anche perché intervenne un grande artista del disegno che non deve essere dimenticato che è un nome che sembra straniero ma in realtà è italianissimo Leopoldo Metlikovic Leopoldo Metlikovic è un nome semplicemente dalmata triestino e quindi sono dei nomi misti appunto che si aprono verso il mondo slavo ma che in genere rappresentano proprio delle personalità fortemente legate alla cultura italiana un grande artista in quel genere visto che sono qui dico anche quali furono i più importanti non tutti fra i primi interpreti la prima interprete nel ruolo di Tosca si chiamava Hariclea d'Arclee ed era una apolide come si capisce molto bene da questo nome di grande bellezza di grande avvenenza e anche quindi portatrice di quel tono personale che l'autore del dramma fonte dei libretti tra poco vediamo chi era Victorian Sardou volle dare al suo personaggio anzi il dramma di Sardou La Tosca bisogna dire così alla francese fu scritto da Sardou appositamente per una donna che in quel momento agli occhi dell'immaginario collettivo come si dice esprimeva il massimo sex apple richiamo sessuale fortissimo cioè l'attrice Sara Bernard peraltro non più giovanissima ma affascinante attraente il primo Cavaradossi un tenore che si chiamava con un nome singolare perché è il nome di un grande scrittore milanese si chiamava Emilio De Marchi un suo assolutamente omonimo che poi fece una grande carriera in Germania e in Austria soprattutto meno in Italia il primo Scarpia Eugenio Giraldoni il primo Angelotti Ruggero Galli Spoletta Enrico Giordani e Sciarrone Giuseppe Gironi posso lasciare qui ancora in sospeso altri ruoli minori interessante che era il regista anzi come era scritto sulla locandina direttore della messa in scena era Tito Ricordi Tito Ricordi e la famiglia dei Ricordi interferì nella vita di Puccini non soltanto come editori delle sue musiche ma anche a volte come librettisti è il caso di Giulio Ricordi padre di Tito eccetera lo stesso Tito in questo caso che organizzò in qualche modo lui più giovane la regia o messa in scena e poi un grandissimo professionista autore delle scene e dei costumi che si chiamava Adolfo Hohenstein non Adolfo perché era italiano Adolfo Hohenstein la prima esecuzione di Tosca fu a Roma in quello che oggi è il teatro dell'opera e allora era ancora il teatro Costanzi un teatro di famiglia come il Petruzzelli che portava il cognome dei proprietari domenica 14 gennaio 1900 e allora questa data significativa colloca proprio Tosca la colloca proprio alla fine del secolo XIX gli anni col doppio zero non sono i primi anni di un secolo ma l'ultimo anno del secolo precedente e la conclusione del 800 Pucciniano il 900 Pucciniano comincerà dopo quattro anni con Madame Butterfly ecco volevo dire due parole rapidissime sui librettisti Puccini inizialmente ebbe un terreno agevolmente segnato anche perché Ricordi simpatizzava per lui forniva delle indicazioni Palo di Giulio Ricordi poi però si inceppò la macchina e fu anche così disastroso l'esito infatti il primo librettista Ferdinando Fontana era un eccellente uomo di teatro che gli fece un libretto per Levilli la prima opera di Puccini come sappiamo del 1884 che funzionò e un libretto che non funzionò affatto per la seconda opera che ebbe un disastroso esito che quasi convinse Puccini a non scrivere più musica a cambiare mestiere lo mise in uno stato di prostrazione e di depressione cioè Edgar l'infelicissimo Edgar del 1889 per parare il colpo quando Puccini si riprese confortato da Giulio Ricordi e si innamorò della histoire de Manon i librettisti che si affollarono oserei dire quasi al suo capezzale per sostenerlo furono un esercito intanto ci fu lo stesso Giulio Ricordi che mise la propria mano convinse lo stesso Puccini il compositore a scrivere anche lui parti del libretto ma poi intervennero in questa impresa gli stessi Illica e Giacosa che per la prima volta venivano coscritti e assunti nell'impresa Puccini e Company e poi Domenico Oliva Marco Praga figlio del grande poeta scapigliato Emilio Praga quindi a più mani l'opera funzionò direi soprattutto per la musica però ecco questo libretto collettivo non fece non creò alcuna occasione di disastro a Puccini con intuito straordinario da parte sua piacquero soprattutto due tra questi librettisti con i quali simpatizzò subito poiché sentiva che intuivano immediatamente i suoi desideri ed erano Luigi Illica e Giuseppe Giacosa rapidamente l'anagrafe perché sono importanti i librettisti Luigi Illica che era nato a Castella Arquato nel territorio di Piacenza un posto meraviglioso sulle colline del Piacentino era nato sabato 9 maggio 1857 muore nello stesso luogo nel suo borgo di nascita il 16 dicembre del 1806 che c'è? non ho capito? ah ho detto 800? eh va bene ebbene non siamo ancora abituati a viaggiare nel tempo e invece Giuseppe Dacosa ecco Dillica per esempio in genere si conoscono i libretti però quando c'era una volta un piccolo teatro che funzionava ahimè a tempi di Streller ricordo per esempio la messa in scena ammirabile di una commedia nera tragica Dillica l'eredità del Feliz ecco sinistra agghiacciante con Valentina Cortese nel suo pieno fulgore di attrice e con Piero Mazzarella in un ruolo da vilain che sembrava tagliato su misura per lui il fratello cattivo ecco ma ci sarebbe molto da scavare nel teatro di Lui Dillica è quasi un continente ancora da riscoprire molto più noto Giuseppe Giacosa naturalmente lo conosciamo per vari motivi svariati era nato qui vicino era nato a Colleretto parella le cannabese nel 1847 e muore nel 1906 e scrisse dei drammi al di là del suo lavoro di librettista per Puccini soprattutto per esempio la famosa partita Scacchi un dramma in cappa e spada anzi medievale ecco un po' di cartapesta che aveva una grandissima popolarità allora a quei tempi del 1871 quindi ancora arretrato nel tempo e poi più avanti negli anni Tristi Amori che è un bellissimo dramma di tipo borghese un po' come quelli di Henri Beck in Francia del 81 e finalmente il più famoso Come le foglie che è un autentico capolavoro che ha qualcosa alla Tennessee Williams o la Eugene O'Neill ha qualcosa del teatro americano del 1910 peccato che queste cose siano diventate desuete c'è in genere nell'idea generale che regge i librettisti e Puccini un principio che l'opera sia donna l'opera è qualcosa di femminile come genere teatrale è femminile il suo spirito è femminile anche se ci sono dei personaggi maschili lì in realtà la luce il bene il bello il giusto il coraggioso l'energia sono sempre dalla parte della donna nel teatro d'opera in generale anche quando l'opera abbia un titolo al maschile nel caso di Fidelio è uno scherzo perché Fidelio è una donna Leonora è forse la celebrazione del coraggio della donna che mai mai così sia stata presentata al pubblico in un'opera e poi abbiamo naturalmente le opere verdiane che sono quasi sempre al femminile ma anche quando ci sia un autore che predilige i titoli maschili come Wagner Lohen, Grintan, Heuser Tristan Undisole Parsifal poi in genere sentiamo che la sua sensibilità è attratta soprattutto dal mistero femminile da quello che un poeta che voi certamente conoscete perché è vostro cioè Guido Gozzano uno dei massimi poeti europei del secolo scorso diceva descriveva nella signorina Felicita con un verso quasi dantesco donna mistero senza fine bello ma questa caratteristica è più che mai accentuata nel teatro di Puccini ed è singolare il tipo la tipologia la forma simbolica al femminile che è presente in quest'opera non è proprio una novità assoluta però come la tratta Puccini è una novità ossia la donna forte che per difendere se stessa o per difendere ciò che ama è capace anche di uccidere un uomo che la insidia pensiamo alla ricerca l'ascensore scende 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 di piano arriviamo molto in profondità ecco troviamo Giuditta e Oloferne però è diverso poiché Oloferne non è un essere viscido come scarpia è un essere violento brutale dominatore è quasi un barbaro visto dal punto di vista dell'antico testamento ma non era proprio così Giuditta quindi lo uccide ma non gode di averlo ucciso c'è quella serie di dipinti l'episodio diventa un tema nella storia della pittura Giuditta mostra la testa di Oloferne ma non ne gode invece Tosca e qui siamo veramente in un nuovo eone della sensibilità occidentale gode di avere ucciso Costui primo perché era uno che la insediava come donna sessualmente la donna non tollera più di essere in questa condizione di insidiabilità inevitabile non lo vuole questo suo destino lo chiude storicamente per sempre col personaggio di Tosca ma poi su questo si monta una considerazione di carattere legata al potere e il potere è in fondo il fratello maggiore del brutale istinto sessuale ci sono dei proverbi che li mettono a confronto ma sono così volgari che non li voglio ripetere certamente dinanzi a lui tremava tutta Roma ecco cioè era colui che poteva insidiare le donne impunemente e questa volta non gliel'ho permesso io era colui che atterriva tutti a Roma ed ecco lui è un cadavere senza vita e questa è la femminilità di Tosca c'è qualche rapporto forse con a parte con Giuditta e Oloferne con una donna l'abbiamo appena nominata che non uccide ma sta per uccidere e avrebbe ucciso se cioè Leonora infidelio con lei che punta la pistola contro il malvagio contro però ecco devo dire che intanto Pizzasso non è scarpia perché non ha la libido ha semplicemente il desiderio di potere e di vendetta almeno come presentato nell'opera di Beethoven e d'altra parte lei non lo uccide e questo ci pone di fronte a un enigma l'avrebbe ucciso un personaggio simile mi direte è un personaggio immaginario a che però porsi queste domande ma in realtà i personaggi del teatro d'opera sono più veri del vero poiché io credo che se è esistito un vero Loengring o un vero Tristram è probabile che qualcosa del genere sia esistito se è esistito un vero Macbeth certamente il vero Macbeth il vero Loengring il vero Tavreuser che è esistito veramente sì il vero Tristan il vero Re Artù sono quelli dei romance sono quelli delle opere quelli sono i veri modelli non sono le imitazioni tutto viene rovesciato ma comunque è una mia opinione personale naturalmente e adesso arriviamo veramente a un piano sottostante se l'opera costituita da un libretto e da una musica è quello scusate che di solito conosciamo è il piano dell'edificio dove abitiamo cioè il piano nobile scendiamo con l'ascensore di un piano e troviamo qualcosa di singolare sempre di inedito di nuovo quindi penso che oramai sia molto difficile che il pubblico italiano o anche il pubblico francese abbia una sua conoscenza della lunghissima tragedia normale di Soumès una tragedia alla Racine scritta attardata fuori tempo o naturalmente di questa tragedie come la chiamò l'autore che è la Toscana di Vittorien Sardou chi era Vittorien Sardou è il momento di dirlo era figlio di un uomo colto che fece sfortuna si può dire era un olivicultore di un paesino che si chiamava Canet vicino a Can che rovinato da una gelata allora bastava una gelata per rovinare l'economia insomma di un agricoltore soprattutto mediterraneo quindi dovette andare a Parigi a cercarsi un impiego un lavoro dipendente visse come insegnante come cartografo come autore di dizionari ma in modo sempre gramo ha in me diversi figli e uno di questi fu appunto Vittorien il quale dovette provvedere a se stesso e alla famiglia desideroso di studiare medicina troncò gli studi e incominciò a scrivere su alcuni giornali cercando di collocare suoi progetti teatrali e sue novelle per fortuna e anche per fortuna nostra le cose gli andarono bene abbastanza bene sempre meglio divenne per qualche decennio uno degli autori più celebri più apprezzati anche più stimati di Francia ma ebbe anche molti detrattori che lo ritenevano un autore mediocrissimo di teatro giudizio di André Gide per esempio che come al solito spietato nei suoi confronti cioè belle trame l'intreccio funziona bene un bel meccanismo ma non c'è vita nelle sue trame e un giudizio particolarmente spietato fu quello di un anonimo sul Figaro che disse l'unica cosa buona dei suoi drammi è l'interpretazione di Sara Bernard ecco diciamo un po' alcuni suoi drammi Fedora e qui naturalmente è la preparazione all'opera di Giordano ed è l'82 Giordano 98 la Tosca 87 e poi c'è l'opera di Buccini Madame Saint-Jean e anche lì c'è l'opera di Giordano più avanti nel 1915 per la Tosca la grande scoperta di Sardufo questa attrice Sara Bernard che lui conobbe quando lei aveva sì ormai 38 anni non era una ragazzina e la volle stabilmente nei suoi drammi e la creatrice del ruolo di Tosca teatro cioè la prima interprete fu assolutamente lei questo poi vediamo sì poi ci fu dopo la prima diciamo anche quando ci fu la prima della Tosca ebbe luogo a Parigi nel teatro della Porte Saint-Martin giovedì 24 novembre 1887 ecco nel discorso che facciamo questa data ha una sua notevole importanza altri drammi di Sardufo per dare l'impressione insomma la cognizione un po' dei suoi interessi che erano svariati ma erano sempre legati all'ironia al sarcasmo alla descrizione di qualche anomalia del male o di ciò che egli riteneva il male per esempio c'è un dramma divorzion contro il divorzio quindi un dramma che non era però perbenista era un dramma semplicemente dispettoso in cui appariva che la mania di divorziare era semmai un atto perbenistico oppure di grandissimo interesse le barbare con la concezione in anticipo del tramonto dell'Occidente che fu un importante nella storia della musica perché ebbe delle musiche di scena di Camille Saint-San cioè fu un melodrama come quello che si trova nel film l'età dell'innocenza di Scorsese cioè un'anticipazione del cinema un testo solo parlato non cantato ma con una colonna sonora come la colonna sonora del cinema c'è un repertorio vastissimo che in Italia è stato indagato da un grandissimo studioso che è Emilio Sala l'opera senza canto un libro meraviglioso tutto da leggere e poi c'è per esempio una serie di drammi storici e tre in particolare sono dedicate al periodo della rivoluzione francese e dopo la rivoluzione che sono le merveilleuses del 73 un episodio del terrore di Robespierre poi a metà per Midor naturalmente un episodio che parla del ambiguo periodo del ritorno di un minimo di diciamo di vita comoda e di minore intransigenza rivoluzionaria che prepara l'avvento poi di buona parte del 1891 e poi finalmente Robespierre la storia della caduta di Robespierre nel 1899 mentre Tosca o La Tosca è un dramma che è ambientato dopo nell'età napoleonica e per quanto riguarda la scelta l'Italia nell'età dell'Italia che si trova schiacciata tra i sovrani legittimi in genere gelosi del loro potere quindi attivanti una crudele repressione e la conquista da parte di Bonaparte poi Napoleone che animato dal desiderio di conquista usava metodi non meno crudeli di quelli che usava il duca di Modena famigerato o i famigeratissimi Borbone ecco quindi c'è molta tensione politica e storica in Sardù ossia ogni dramma di Sardù anche quelli mediocri sono drammi di battaglia meritano una discussione fanno discutere suscitano accuse sui giornali minacce di censura di denuncia di duelli addirittura Sardù molto pericolosamente sotto questo aspetto ci fu ecco molto importante una trasferta di Sara Bernard non di Sardù in Italia la prima ebbe luogo nell'88 la seconda nel 1889 e durante questa trasferta che si prolungò nei primi mesi del 90 successe che nel gennaio in un giorno che non sono riuscito a precisare lo ammetto in un giorno del gennaio 1890 Giacomo Puccini che allora era a Milano aveva assaporato l'insuccesso spaventoso di Edgar e non si era ancora riscattato con l'opera che gli diede successo e denaro cioè Manolo Escò viveva così diciamo in modo un po' svagato un po' alle spalle della sua compagna la famosa signora Elvira e alle spalle anche di Giulio ricordi che malgrado tutto credeva in lui insomma gli permetteva in qualche modo di vivere gli pagava anche l'affitto da quanto pare e allora in questa circostanza al teatro dei filodrammatici Puccini ascoltò guardando Sara Bernard recitare La Tosca di Vittorien Sardou e non capì una sola parola poiché la Bernard era venuta in Italia per recitare in francese cioè non tollerava traduzioni e voleva i testi originali quindi gli amici di Puccini le testimonianze svariate c'è uno per esempio di Arnaldo Fraccaroli lui non capì una sola parola di questo dramma però sentì l'azione intuì quello che succedeva ma una parola la capì molto bene ed era malheureuse malheureuse dice di se stessa Tosca e allora capì che si trattava di pane per i suoi denti e si rivolse allora a Illica e Giacosa a proposito di personaggi interpreti della Tosca insieme con Sara Bernardi in questo dramma ci fu un comprimario un antagonista fisso un grande attore francese che era anche un drammaturgo Pierre Berton che fu il primo scarpia della storia non è il caso quindi di dimenticarlo dette quindi delle cose di carattere anagrafico su Tosca io vorrei impiegare il mio tempo spero che non vi dispiace per affrontare degli argomenti l'opera più o meno si la conoscete e non credo che sia il caso che io mi metta a canticchiare anche fare degli esempi musicali forse ne facciamo dopo uno se avanzerà un po' di tempo ma vorrei veramente vedere come si muovono questi personaggi rispetto alla realtà perché ci sono molte curiosità storia Tosca l'opera Tosca ha suscitato moltissima curiosità sulle allusioni e sui referenti molto più di quanto non posso aver fatto la traviata perché della traviata tutti sapevano che si trattava di un personaggio della società parigina del demimonde poi diventata duchessa perché nella realtà divene duchessa Alfonsin è poi morta tragicamente come violetta per quanto riguarda Aida non ha nessun significato porsi la domanda delle radici storiche la fonte è un romanzo di un egittologo Auguste Mariette per quanto riguarda Samson e Dalila vale lo stesso discorso leggetevi l'Antico Testamento il libro dei giudici dove si parla di Samson e quindi di Dalila ma nel caso di Tosca era molto interessante fate capire a chi si alludesse e allora io consiglio da bibliografo come dicevo anche prima due libri due libri che non è forse facilissimo trovare ma neanche particolarmente difficile il primo è il libro di una studiosa americana che si chiama Deborah Barton nelle biblioteche dei conservatori si trova certamente che si chiama D'Oreal Scarpia io direi che essendo siciliano il personaggio dovrebbe chiamarsi Scarpia pensando che spesso questi cognomi che terminano con che sono piani sono parossitoni ma terminano con Ia diventano prendono l'accento sulla I non ha molta importanza quindi D'Oreal Scarpia historical source for Tosca cioè le fonti storiche per Tosca questo saggio è pubblicato in due annate di una rivista importante chiamata Opera Quarterly cioè quadrimestrale dell'opera del 1994 e del 1996 1994 volume decimo fascicolo 2 del 96 volume dodicesimo fascicolo 3 se volete e l'altro scritto piuttosto importante è quello invece di un italiano l'ho portato qui anche l'altro è un po' complicato per mettere fuori le annate questo piccolo libro in fondo densissimo di Marco Grondona di un interesse straordinario gli appunti di Puccini per Tosca pubblicato dalla LIM della libreria musicale italiana libro veramente meraviglioso per la capacità di analisi per certe intuizioni anche un po' un po' luciferine di cui Grondona che è un personaggio singolare è capace che cosa ci dice per esempio Deborah Barton con una prosa lucidissima molto agevole anche nella possibilità che noi abbiamo di inseguire le sue ricerche sappiamo che l'opera si apre con l'evasione di Cesare Angelotti da Castel Sant'Angelo Cesare Angelotti nella trama e quindi nel dramma di Sardù era un console della Repubblica Romana la Repubblica Romana nata sotto l'impulso delle conquiste di Bonaparte e poi cancellata molto presto dalle truppe borboniche che rientrando a Roma rimettono sul trono il signor Barnaba Chiaramonti noto come Papa Pio VII e quindi c'è una ferocissima repressione il governo borbonico di Napoli prestò in quel caso secondo la trama naturalmente ma con qualche radice storica prestò al Papa e quindi alla curia pontificia un capo della polizia come si deve in sostanza fu un atto come dire di soggezione da parte del Papa nei confronti del regno di Napoli che in fondo aveva mandato le truppe per ridargli il suo trono per liberare il paese dalle bande napoleoniche a volapartiste e questo sarebbe stato appunto il barone siciliano sempre nella trama della finzione Viteglio Scarpia e col nome Viteglio non compare in Puccini ma compare naturalmente nella fonte cioè in Sardù Viteglio Scarpia quando Cesare Angelotti fugge evade da Castel Sant'Angelo ed è poi noto anche dall'opera che chi lo aiuta ad evadere è sua sorella la sorella di Angelotti cioè la Marchesa Giulia Attavanti la dama bionda che Cavaradossi ha visto molto spesso in chiesa e quindi è stato sollecitato a fare bionda la Madonna suscitando la gelosia di Tosca come sappiamo tutti ecco si rifugia nella chiesa di Sant'Andrea in valle perché in questa chiesa c'è la cappella di famiglia la cappella degli Attavanti è un luogo diciamo riservato privato dove può accedere soltanto la polizia naturalmente si tratta di essere nascosti e di non informare nessuno che sia pericoloso come può essere il sagrestano che già si presenta come un personaggio non del tutto affidabile poco simpatico scherza con i fanti e lascia stare i santi è una delle formule più stupide che si possano conoscere soprattutto quando si parla di culture e di arte nella cultura e nell'arte non c'è nessuna sacralità nulla è sacro e di tutto si può e si deve scherzare non esistono dei tabù sia chiaro questo per sempre il giorno è martedì 17 giugno 1800 è un giorno molto particolare si è combattuta nei giorni precedenti vicino ad Alessandria Piemonte nella località Marengo una battaglia tra le truppe austriache comandate dal generale Melasch questo Melasch è un cognome ungherese quindi va pronunciato così e le truppe diciamo un po' la partiste molto meno numerose male armate e il 14 il 15 giugno sembrava che la giornata la vittoria fosse degli austriaci e quindi questo segnasse il tracollo di tutti quei piccoli stati repubblicani che Bonaparte aveva messo in piedi in Italia sarebbe stato veramente una rovina per queste diciamo queste novità volute da Bonaparte cosa che in parte avvenne la notizia quindi della vittoria austriaca e quindi del Papa e quindi dei Borboni e quindi della legittimità si sparge per tutta Roma perché un messaggero arriva tre giorni dopo infatti il 17 giugno ad annunciare questa vittoria ma il messaggero siccome gli è costato tre giorni il viaggio non può sapere che nel frattempo tra il 14 e il 17 c'è stato un rovesciamento della situazione a un certo punto è entrata in gioco la cavalleria comandata dal generale Desaix e quello per chi conosce un po' la poesia italiana celebrato da Giosuè Carducci in uno dei sonetti di Sa Ira i famosi sonetti sulla rivoluzione francese sul direttore e poi sull'ascesa di Bonaparte Desè che toglie a sé la gloria per fare il suo dovere Desè arriva la giornata è capovolta e quindi la vittoria è dei francesi Melasch deve fuggire quindi quando il messaggero arriva a Roma annunciando la notizia della vittoria austriaca è già fuori tempo infatti alla fine della giornata arriverà un altro messaggero trafelatissimo il quale dirà che Melasch è fuggito e i francesi hanno la vittoria e questo avverrà nel secondo atto nel momento in cui Cavaradossi è straziato dalla tortura eppure essendo straziato e gridando quelle grida scomposte che hanno creato forse anche quelle il disappunto di Gustav Mahler no? gridare in un'opera scusate piccola parentesi quadra mi sono sempre domandato come mai Mahler avesse vituperato queste urla bestiali come lui dice anche nella lettera d'Alma queste urla spaventose questo realismo e invece lui adorò Cavalleria Rusticana e hanno ammazzato con fare Turiddu e adorò Mascagni in generale è strana questa cosa è una questione così di alchimie estetiche un po' complicate certamente poi sappiamo com'era a finire Cavaradossi lo vede a pietà di lui gli dà la colazione lo prende e lo fa nascondere nel pozzo della propria villa dove però sarà trovato sarà trovato dagli sbirri e dagli sgherri di Scarpia semplicemente perché nel secondo atto Tosca non può sopportare non può reggere la tortura di Mario e allora per salvarlo da ulteriori strazi confessa a lei perché lei sa che Angelotti è del potro suscitando naturalmente lo sdegno lì la furia di Mario quando viene a sapere che lei ha tradito la causa dei carbonari dei rivoluzionari e così via ma chi è chi è Angelotti e allora ecco che Barton cognome promettente peraltro dal punto di vista della cultura ci racconta la storia per esempio di un medico molto importante che aveva un nome non molto diverso Liborio Angelucci che era stato lui console della Repubblica Romana negli anni appunto della liberazione dai papi da parte di buona parte era stato proclamato console della Repubblica Romana naturalmente quando i Borbonici avevano invaso Roma egli era dovuto fuggire o meglio era scomparso nel nulla perché non si era saputo se fosse stato poi giustiziato oppure se si fosse salvato un altro personaggio che è chiamato in causa e attenzione ai cognomi questo era Angelucci era invece un personaggio molto più famoso Nicola Antonio Angeletti abbiamo capito dove andremo a incrociarsi 1791 1870 quindi costui è fuori quadro nato nel 91 aveva nove anni nel 1800 appartiene alla generazione dei secondi ribelli cioè quelli dei moti del 1821 e poi già invecchiato sarà presente a Roma nel 1849 con Mazzini e Garibaldi si salverà anche dalla repressione del 49 quando torna il Papa e sarà con Garibaldi nel 1860 e morirà l'unico ecco che riesca a salvarsi morirà nel suo letto non giustiziato c'è una strage piuttosto estesa in queste parti d'Italia nel centro e nel sud d'Italia dalla Romagna fino alla Sicilia per ragioni politiche direi che i martiri nostri sono tutti risorti non è un'iperbole poetica nel famoso inno di Garibaldi ma è una realtà ci fu veramente una repressione sanguinosa come quella della Comune di Parigi ecco per fare delle proporzioni simili quindi evidentemente il personaggio di Angelotti è un personaggio immaginario di finzione ma molto vero poiché già nel cognome Angelucci Angeletti allude a almeno due personaggi e a un tipo umano che ha coraggio che pur essendo un uomo che ha molto da perdere che ha una professione importante e onorata come del resto Cavaradossi ha una professione onoratissima come pittore ma mette tutto in gioco per amore della libertà personaggio particolarmente interessante è inutile dirlo Viteglio Scarpia io faccio le 18 e 30 dico bene? sì le 6 e mezza ecco ancora un po' andiamo avanti se volete che era un barone siciliano ripeto sempre nella finzione sono i connotati che vengono alla luce poco nell'opera di Puccini in cui non è neanche chiamato col suo prenome ma sono detti ad spectatores nel dramma di Sardù il quale forse aveva il difetto di un certo didascalismo di voler spiegare tutto di dare troppe notizie e appunto questo personaggio prestato da Napoli a Roma come capo della polizia di quelli spietati ci volevano uno spietato e si parla quindi di una serie di modelli possibili parecchi sempre la Barton parla per esempio di un altro barone è un brutto titolo nobiliare evidentemente per i patrioti romani salernitano però però sempre di origine borbonica che si chiamava Gerardo Curci questo è un personaggio storico sul serio perché è ricordato da almeno tre grandi storici del reame di Napoli e favorevoli alla rivoluzione buonapartista vissuti in quegli anni Vincenzo Cuoco Pietro Colletta e Francesco Lomonaco sono fra l'altro tre grandi scrittori italiani dimenticatissimi credo che sia molto difficile trovare delle edizioni correnti di queste loro opere storiografiche è veramente indegno questo indecente se me lo permettete ecco questo personaggio è qui udite udite raccontano tutti e tre gli storici sia Colletta che Lomonaco che Cuoco era sopra questo si chiamava Curci non c'entrava niente con scarpia era soprannominato lo sciarpa perché aveva la mania di proteggersi la gola dal gelo dal gelo romano per esempio con questo indumento lo sciarpa portava sempre questa sciarpa sciarpa scarpia abbiamo capito un po' che il criterio di Sardù è quello di creare degli anagrammi oppure delle crasi delle fusioni tra i nomi per rendere i modelli abbastanza comprensibili devo dire che questo personaggio questo Curci era un personaggio veramente laido perché parlano i tre storici che ho nominato prima Concordi quando i bonapartisti le truppe di Bonaparte dilagarono in Italia a 1896-97 e crearono tutte le repubbliche repubblica di Genova repubblica romana repubblica partenopea eccetera eccetera lui andò dal generale Championnet e offrì i propri servigi come capo della polizia dicendo che sarebbe stato durissimo contro quelle canaglie di lealisti che ancora volevano il ritorno dei sovrani cosiddetti legittimi Championnet che non era un genio peraltro però intuì che di questo personaggio non c'era da fidarsi e lo ricusò Curci se la legò al dito e quando Napoli ritornò in mano ai Borbone egli divenne un capo della polizia più che spietato sanguinario sanguinario in un modo con un limite di atrocità che già allora suscitava negli stessi sorvani borbonici delle fortissime perplessità anche se loro non erano naturalmente degli angeli come sappiamo come fecero Eleonora Fonseca Pimentel che vogliono impiccare in quel certo modo ecco sorvogliamo su questo quindi potrebbe essere questo veramente laido personaggio Gerardo Curci detto lo sciarpa da cui l'anagramma scarpia o scarpia non era siciliano peraltro mente era siciliano un altro personaggio che è stato preso come candidato ad essere il modello di scarpia personaggio molto vero storico il famoso giudice del tribunale politico che imperversò a Napoli dopo la fine della Repubblica partenopea il famigerato Vincenzo Speziale fra l'altro qui c'è l'identità acronimica degli iniziali del nome del cognome Viteglio Scarpia Vincenzo Speziale su questo esiste tutta una terrificante letteratura vi inviterei per esempio a leggere un libro italiano magnifico che è le ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini in cui Settembrini descrive le atrocità commesse dal cardinale Ruffo Fabrizio Ruffo e dalle sue truppe cattoliche sanfediste nei confronti degli atei dei senza Dio cioè di coloro che volevano un minimo di libertà nel reame ecco ci sono altri candidati ma ve ne faccio grazie adesso due parole sui due innamorati Floria Tosca c'è un modello di Floria Tosca nella drama di Sardù ci sono molti connotati in più per esempio voi sapete che nel secondo atto di Tosca c'è la cantata che celebra la presunta vittoria di Marengo che poi invece non c'è stata nel drama di Sardù tutto si svolge all'interno di Palazzo Farnese invece con un colpo di genio dei due librettisti ma anche per volontà di Puccini volontà acustica in Tosca noi assistiamo alla scena dell'interrogatorio e della tortura in locali di Palazzo Farnese ma sentiamo venire a distanza da un'altra ala del palazzo la musica della cantata è il canto corale e monodico e l'autore di questa cantata sarebbe stato Giovanni Paesiello nel drama di Sardù c'è il personaggio di Giovanni Paesiello così come c'è il personaggio della regina Maria Carolina di Napoli come c'è il personaggio della Luciana si chiama Lucienne Luciana la cameriera di Tosca c'è la principessa Torlonia ecco tutto questo diciamo materiale umano viene posto in lontananza diventa una specie di suono di sfondo e quindi si crea una stereofonia anche psicologica straordinaria che non c'è nel dramma necessario naturalmente il genio del grande compositore e dei suoi eccellenti collaboratori librettisti di Tosca si dice una ragazzina di umile condizione scoperta quando aveva 15 anni e portata da maestri lungimiranti portata al successo e poi tale da cavalcare i teatri di tutta Italia è finalmente arrivata a Roma è diventata la più celebre cantante del momento grazie anche alla sua bellezza alla sua giovinezza quindi precocità giovinezza nel talento e bellezza ma queste sono le caratteristiche di una grandissima cantante questo devo dire la verità nella mia pochezza l'avevo pensato anch'io tanti anni fa ma mi ha fatto piacere leggere il saggio della Barton che lo conferma ecco poi io sono tanto più vecchio della Barton insomma una donna che ha 40 anni quindi figuriamoci questa cantante io non so se qui ci sia Giorgio Valerzi ma è una personalità di cui sentì parlare da lui forse per la prima volta con cognizione e con competenza assoluta Angelica Catalani nata nel 1780 e morta nel 1849 e la cui vita fu in sostanza il modello scoperta giovanissima di famiglia non importante umile portata al successo molto presto a 19 anni con una carriera che la porta prima a Venezia a Trieste e poi in tutto il mondo una cantante così celebre Angelica Catalani da far sì che Edgar Allan Poe chi lo penserebbe in un suo racconto diciamo umoristico grottesco quello che si chiama il celebre caso del dottor Catrame del professor Piuma ecco provate a leggerlo se avete ecco un volume che raccolge i racconti di Poe ricorda Angelica Catalani come un esempio antonomastico di grande cantante cioè si dice una cantante che neanche Angelica Catalani sarebbe stata capace e questo indica appunto la fama assoluta di questa donna Mario Cavaradossi nel dramma di Sardou si dice essere stato allievo di un grandissimo pittore di riferimento di un francese Jacques-Louis David ecco e nella realtà ci dice la Barton e con questo chiudo il discorso sulla Barton lui lei fa due nomi Joseph Chinard nato nel 56 morto nel 813 Giuseppe Ceracchi nato nel 51 morto nel 1801 quindi possiamo anche immaginare l'età fittizia del personaggio di Cavaradossi immaginiamo che sia nato nel 1860 nel 1760 nel 1800 avrà avuto 40 anni non era proprio giovanissimo ecco ci sono diverse particolarità di cui valrebbe la pena parlare a proposito di Tosca e poi lascio naturalmente agli appassionati di Pustini e il teatro d'opera la competenza necessaria per quanto riguarda la musica ma certamente il libro che vi ho mostrato prima di Marco Grondona è un libro di sommo interesse per quanto riguarda certi particolari che ai più possono sfuggire per esempio pagina 57 e successive di questo libro c'è dico soltanto questo perché il tempo stringe comincia a stringere c'è l'individuazione da parte di Grondona che vide ha visto gli appunti direttamente dal vivo di una notazione fatta con matita blu abbastanza difficile a decifrarsi dal momento che la matita blu ha il tratto piuttosto grosso e quindi incerto e non molto preciso però con molta pazienza si riesce a distinguere due accordi molto importanti che vi descrivo e che sono dal basso do diesis mi la sembrerebbe quindi una triade di la maggiore in rivolto e invece un accordo alterato fa la mi bemolle la singolarità di questi accordi ciascuno è di tre suoni le rispettivamente note più basse di tutti e due fa e do diesis è un pritono cioè un diabolus in musica il contrassegno armonico del male della paura insomma di qualcosa di assolutamente negativo il famoso diabolus in musica come fu chiamato nel medioevo mentre i tre suoni più acuti rispettivamente dei due accordi sono mi bemolle e la e anche qui abbiamo un tritono e si decifra vagamente una parola nella quale si intravede la parola scarpia sono appunti presi a mano naturalmente per di più con la matita non bene anzi alla buona e quindi da questo Grondone riesce con molta abilità a rintracciare lo sviluppo di questa coppia di accordi per vedere come prenda forma quel materiale melodico armonico che finisce per essere il leitmotif alla maniera wagneriana del personaggio di Scarpia ecco ma tutto il libro di naturalmente di Grondone è tutto costruito su queste piccole rivelazioni che nell'insieme fanno qualcosa di molto grande mi avvio verso la conclusione delle varianti sceniche ho parlato per esempio la più importante è la collocazione dell'esecuzione della cantata che in Puccini viene posta invece fuori fuori scena ma ci sono per esempio delle varianti molto importanti per quanto riguarda la scenografia lo stesso Puccini in una lettera a Ricordi racconta di aver avuto il famoso colloquio con Sardù Puccini andò a trovare Sardù per discutere come costruire la trama dell'opera e il libretto e Sardù fece una proposta che lo fece allibire ossia dobbiamo creare una scenografia lo dica lei ai suoi scenografi tale che il Tevere passi tra San Pietro e Castel Sant'Angelo in modo che ci sia una separazione simbolica tra il potere temporale Castel Sant'Angelo la milizia le armi e il potere spirituale cioè San Pietro ingenua asserzione di Sardù dal momento che nello stato pontificio potere temporale e potere spirituale erano confusi in una specie di pasticcio teocratico che faceva sì che fino al 1870 a Roma si continua a fucilare e a decapitare uomini e donne per far sì che la pena di morte sia stata abolita dallo stato della città del Vaticano neanche tanto tempo fa ecco su questo sorvoliamo volentieri ma è abbastanza curioso Puccini rimase esterefatto da questo e naturalmente non realizzò non realizzò questa scenografia ma in realtà questa scenografia era stata appunto realizzata in modo assolutamente cervellottico da tre scenografi che l'avevano curata nel fatale la fatale data che sappiamo cioè il 24 novembre 1887 quando al teatro di Port Saint-Martin era andata in scena la Tosca di questi tre architetti per la cronaca si chiamano Auguste Alfred Rubet Philippe Chaperon e Marcel Jambon che poi vuol dire prosciutto brutto cognome ma potete leggere tutto questo in un altro bel pezzo di bibliografia che è il quaderno numero uno del 1998 della rivista Studi Pucciniani che si pubblica a Lucca in cui c'è una dire meravigliosa è dire poco ma è quello che lei sa fare insomma un meraviglioso saggio di Mercedes Biale Ferrero su problemi di scenografia pucciniana in che è corredato anche da immagini e da illustrazioni dei bozzetti utilizzati da Sardù e invece da dipinti di ben altri artisti come Camille Corot del 1828 che mostrano correttamente dove è San Pietro rispetto a Castel Sant'Angelo e lo stesso del resto avvenne correttamente per fortuna nella scenografia di Hohenstein ho a conclusione il tempo di dare alcune mie impressioni osservazioni di gusto e di preferenza per quanto riguarda la veramente magnifica musica di Tosco una musica che rappresenta una devo dire una specie di malerismo malerismo antelitteram ecco è strano veramente che Mahler abbia pronunciato abbia scritto quella frase che io ho messo così ironicamente all'inizio di questo mio discorso e che pensasse veramente le cose che aveva scritto a meno che non fosse un atto di dispetto forse per qualcuno che gli contendeva certe zone del talento compositivo io so per esempio se badiamo all'opera immediatamente successiva a Tosca e voi sapete qual è nel 1904 la sfortunata all'inizio madama butterfly poi sempre più fortunata provate a riascoltare o suonandovelo al pianoforte o da un cd o direttamente insomma ascoltandolo in concerto o all'opera l'inizio come comincia proprio musicalmente madama butterfly e dopo aver ascoltato per qualche minuto e qualche minuto è moltissimo in una costruzione musicale cambiate musica e ascoltate la nona sinfonia di Gustav Mahler e in particolare il terzo tempo lo scherzo si potrebbero cucire le due musiche fare uno scherzo a qualcuno e dire che è la stessa musica lo stesso autore ritmo ictus linea melodica il discorso sintattico armonico il piglio il tono di questa musica è ugualmente demoniaco sia in madama butterfly che nella nonna di Mahler madama butterfly è del 1904 la nonna di Mahler del 1909 quindi dovremmo dire che Puccini ha avuto delle intuizioni e le ha avute certamente anticipatrici anche in vista di colui che da un seggio che lui sentiva più alto ecco lo giudicò veramente tanto male René Leibovitz invece ecco giustamente ha visto nella musica di Tosca tante anticipazioni di Alban Berg da Wozzeck di Ravel per esempio da la vals ecco ha perfettamente ragione dalla Camer Sinfonie opera 9 di Schoenberg sono tutte cose che vi esorto ad ascoltare da soli per cercare di intuire appunto questa affinità che c'è indubbiamente inequivocabile Petrusca Petrusca di Stravinsky la Camer Sinfonie l'ho detto di Schoenberg e poi da Wozzeck da la vals di Ravel provate provate l'inizio ha una violenza dovuta semplicemente a a un fatto cioè c'è prima un accordo di si bemolle poi uno di la bemolle e uno di mi maggiore e si intravede la linea di una scala per toni interi cioè di una scala alla Debussy cioè è piena quest'opera di intuizioni che prima non c'erano o erano soltanto in nuce qui invece si disegnano si delineano quest'opera del 1900 di questo anno cerniera è veramente fondamentale nella storia del teatro d'opera italiano e vorrei dire anche che Puccini non era affatto quel artista tutto d'impulso e sciatto che ancora una volta Mahler in un'altra sua poco felice lettera volevò slendriando dice la sciatteria di Puccini non è vero Puccini preparò Tosca in modo ammirevolmente preciso per esempio per quanto riguarda il testo lui nel testo del Tedeum mise degli inserti in latino liturgico ecclesiastico che furono però di invenzione ma non sua lui chiese la consulenza di due amici uno era per esempio Guido Vandini che lucchese conosceva molto bene Puccini e morì si può dire suicida otto mesi dopo la morte di Puccini forse per dolore e poi invece un sacerdote di Pietra Santa anche lui toscano che si chiamava Pietro Panichelli che fu colui che lo introdusse da ricordi e quindi ebbe una certa importanza nella vita grande importanza nella vita di Puccini e Panichelli e Vandini collaborarono proprio per scrivergli tutti i testi latini che nel primo atto Puccini mette in musica così come invece nel terzo atto alla fine dell'opera nella scena dell'alba che apre il terzo atto quando c'è il pastore il fanciullo pastore che canta una canzone Puccini vuole fare le cose in regola e chiese la consulenza di un poeta in romanesco cioè Luigi detto Gigi Zanazzo che era molto popolare a Roma perché aveva fondato e diretto la rivista Il Rugantino una rivista come dire in vernacolo che esprimeva le cose dei noantri come dicono i romani un po' come il vernacoliere ecco in terra toscana e quindi ci sono diversi inserti a proposito di questa scena del pastore risulta abbastanza incalcellabile un'impressione siamo all'alba il mondo è ancora fresco e pulito è ancora vergine è ancora intatto non si intravede la tragedia che seguirà o il male il peccato che ne seguirà sto pensando a un parallelo tra l'ultimo atto di Tosca e la seconda metà del primo atto di Tannhäuser laddove Tannhäuser precipitato dal Venusberg si trova in una pianura ai piedi del castello del Margravio dell'Angravio di Turinja e sente il canto di un pastore e la canzone in lode di Frau Holda cioè la dea venere dei poveri qui invece quello del pastore è una canzone che riguarda la bellezza della natura la felicità di essere liberi che contrasta tragicamente col fatto che Mario è in catene e sta per essere ucciso da un turpe potere ecco e provate ad ascoltare insieme queste due parti di queste due opere per cercare di controllare se è vero quello che io dico e un'altra osservazione di gusto mio per esempio riguarda la parte viva insomma del primo atto cioè la gigantesca anche musicalmente scena del Tedeum è una cosa che mette i brividi ma non tanto perché c'è un personaggio malvagio in chiesa quindi si creano scintille tra diciamo l'etica del cristiano che dovrebbe essere misericordioso pietoso non violento è questo personaggio orrendo che è Scarpia sotto ogni aspetto orrendo ma proprio musicalmente non sarebbe neanche necessario capire conoscere la trama in quel momento per capire che lì c'è il male energico è un bene logorato dalla Rupin che vengono a coincidere si sovrappongono e un po' anche qui faccio un altro paragone quel che accade in un'opera che devo dire non è tosca certo ma che amo molto almeno in certe sue parti cioè la gioconda di Amilcaro e Ponchielli nel primo atto la famosa scena non aria perché è un'opera di tipo un po' bagneriano se vogliamo la famosa scena in cui Barnaba vede madre e figlia cioè la ceca e la gioconda e incomincia quindi con le parole che dicono cantano su loro tombe e poi dice la famosa frase vorrei germirla con mano grifagna ecco il canto di Barnaba si eccita sempre più e diventa veramente grandioso nel male è la grandiosità a cui può arrivare il male ed è lo stesso cursus lo stesso itinerario emotivo ed espressivo che c'è nel canto di Scarpia e in cui la frase che è certo orrenda ma nel male sublime tosca nel tuo cuor si annida Scarpia forse è il colpo di genio più alto dei due librettisti concludo dicendo che tutto questo lo possiamo mettere tra parentesi tranquillamente e rivedere e riascoltare Tosca per l'ennesima volta e possiamo immaginare però un mondo diverso dal nostro un mondo in cui chi governa i nostri destini e quindi ha la presunzione di governare anche l'organizzazione della nostra cultura insegna ai cittadini lo dica in mille modi che la grande musica italiana non è quella cui alludono loro signori non è Ligabue non è Vasco Rossi che la grande musica del nostro secolo non era David Bowie ma era semmai quel Pierre Boulez vergognosamente indecentemente dimenticato dalla radio italiana persino dal canale culturale ridotto al nulla questa è la grande musica italiana e i teatri d'opera sono i luoghi in cui la grande musica italiana e occidentale viene offerta a un pubblico che diventa sempre meno numeroso sempre più distratto e viene sempre più defraudato e impoverito dei suoi diritti culturali ecco difendiamo questa cosa meravigliosa che ha il teatro d'opera Puccini è amato all'estero più di quanto non si è amato in Italia forse io ricordo e qui chiudo un brutto episodio che mi accade a Lucca non accade proprio a me mi fu raccontato perché era l'episodio del giorno prima mi fu raccontato da un maître d'hotel un uomo della conserge di un hotel importante di Lucca mi raccontò che una settimana prima era arrivato alla stazione di Lucca un signore orientale dai tratti orientali pieno di valigie però ben vestito eccetera il quale uscì dalla stazione nel piazzale della stazione gridando Puccini nessuno capiva che cosa dicesse poi finalmente qualcuno riuscì a capire che stava dicendo Puccini fu anche fermato da un vigile perché disturbava le persone e spiegò bene o male in un'observo inglese che egli voleva era venuto apposta dal Giappone essendo un grande cultore di Puccini per vedere Lucca e per vedere le cose meravigliose che c'erano a Lucca le indicazioni della casa di Puccini i musei con tutte le cose che riguardavano Puccini i teatri che davano musica di Puccini continuamente per tutto l'anno e questo giapponese fu dolorosamente colpito da quello che fu svelato e cioè che tutto questo non soltanto a Lucca non c'è ma quasi nessuno a Lucca sapeva dell'esistenza stessa di Puccini poco mancò che non successe quello che toccò a me su un treno andando a Pistoia dialogo tra due coniugi americani amanti dell'opera che attaccarono il discorso con un buzzuro locale domandandoli dove è appunto di Lucca dove è casa di Puccini Puccini e l'altro li smentì dicendo no non si chiama Puccini era Guccini ecco quindi la cosa non è una barzelletta è tristemente vera tristemente vera e quindi direi che proprio sul nome di Puccini che rappresenta semmai il massimo della popolarità della riconoscibilità di ciò che è italiano e il meglio dell'Italia anche all'estero ecco forse faremo bene a costruire a un certo punto una decisa reazione ma non di difesa perché la difesa è l'atto di chi è più debole di promozione di imposizione della nostra musica del nostro teatro d'opera che è il teatro d'opera di quella parte del pianeta che Denis de Rougemont ha chiamato ne poteva chiamarla meglio l'amor e l'occident quindi ho il forte dubbio che Gustav Mahler abbia sbagliato grazie grazie